Comunque se affronti l'argomento, c'è sempre qualcuno pronto a lanciarsi nello sport italico delle tifoserie. Se sei contro l'evasione, allora sei di sinistra. Se sei per una riduzione delle tasse, allora sei di destra. Pro o contro, prendere o lasciare. E in base alla curva nella quale si prende posto, si troveranno canti, inni e slogan opposti. Parassiti contro controversati, luridi evasori contro tasse immonde. Plotone di tassazione raccoglie interviste, testimonianze, casi assurdi e incredibili, per analizzare le tasse, il loro prelievo, la loro morsa, l'impunità dei grandi evasori. Dall'intelaiatura di un sistema costituzionale che prevede un'equa compartecipazione al pagamento dei tributi da parte di tutti i cittadini, al pozzo di San Patrizio dei prelievi forzosi nelle nostre tasche, tanto cari alle strutture nazionali e internazionali che ci governano. Dagli studi di settore al redditometro, dalle accise sui carburanti alla doppia tassazione nelle bollette, dalla disperazione di chi non intravede più via ed uscita, a chi decide di resistere o elaborare proposte di riforma, sino ad arrivare a immaginare un sistema completamente diverso. Plotone di tassazione vuole essere anche uno strumento utile per sopravvivere nella tempesta delle tasse.